costruito probabilmente in età normanna l'interessante ambiente ipogeo che stiamo visitando insieme il cui accesso si apre immediatamente su via cava una delle strade più antiche e principali della città vecchia di taranto ci racconta dell'uso di ambienti scavati nella roccia per la produzione sia di olio lampare che di olio alimentare estremamente diffusi nel tarantino e nel salento i frantoipogei furono utilizzati per molto tempo ed ebbero anche fortuna in funzione del fatto che la struttura garantiva temperatura costante e sicurezza lo studio degli archivi ha datato quello che stiamo visitando insieme al 1084 rendendolo uno dei frantoipogei più antichi di puglia meravigliosa taranto una città con molte storie da raccontare grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti